500 sfratti nella sola riviera del Brenta, un altro sintomo che la crisi sta mordendo forte. Da quando la crisi è iniziato a mordere nel 2008, fino ad oggi sono un migliaio le famiglie che hanno effettivamente perso la casa e i comuni più interessati sono Mira, Mirano, Dolo, Stra, Scorzè, Spinea e Martellago. Il sindaco di Campagna Lupia e rappresentante della Lega dei Comuni, Fabio Livieri, non c'era la sua preoccupazione. Il fenomeno in riviera e nel miranese è triplicato nel giro di pochi anni ed ora il 15% della popolazione a chiedere aiuto all'amministrazione locale. Si stima che ben 35.000 cittadini nel corso del 2013 hanno o avranno bisogno di aiuti e sovvenzioni da parte dei comuni per far fronte al problema della perdita della casa. A questo fenomeno si aggiungono i pignoramenti delle banche verso chi non riesce a pagare il mutuo. Le più colpite sono le giovani coppie, le famiglie monoreddito ed operaie e nell'ultimo anno si è arrivati a contarne fino ad una ventina al mese. In riviera le aziende chiudono ed il lavoro scarseggia. Il 30% dei giovani non lo cerca nemmeno più e sono molte le famiglie che a fine mese non hanno liquidità per saldare le rate del mutuo. Ai mutui non pagati si aggiungono i morosi dell'affitto. Protagonisti sono in questo caso principalmente stranieri che a stento riescono a mantenere la famiglia. Tra i 7.000 stranieri in ginocchio per la crisi moltissimi decidono perfino di emigrare verso altri paesi europei o tornare al paese d'origine. Ormai in Italia per loro è difficile perfino avere una casa dove abitare.